Ciao a tutti ragazzi, sono Franci50 come al solito e oggi volevo andare ad effettuare un attacco in Clash Royale raggiungendo 3 milioni di alisir per farmi la caserma all'11 e fare il traghettino oppure ho altri obiettivi, tipo fare questo qua guarda quanto cazzo è questo? no vabbè tipo fare questo ecco adesso già che lo posso fare però andiamo subito ad attaccare ragazzi eccoci qua ragazzi abbiamo trovato il nostro bersaglio gigante che c'ha 4 mila di alisir allora noi adesso intanto allora qua con la reginata va a sfasciare i gula vai golem vai golem anche l'altro questo due bomberolotti tutti i bomberolotti e tutto questo vai zio che ci andiamo di perto ci andiamo dietro di questo e lì ci mette una bella cura arnice e ci sarebbe anche una curiozza vai zio cura tutto boom e ne va giù ma come mi sta andando giù la torre allora lì meadonna quanto bordello qua dobbiamo curare tutto curiamo qua forte sega vai prendete tutto nero tutto tutto nero tutto quello che avete dovete darcelo vai spiegato vai spiegato a caso qua vai a frate a frate boom dai spiegati con un muretto lì che facile zio ecco lì ormai le inguole e boom anche lì abbiamo preso quasi tutto ormai abbiamo preso tutto ecco lì boom giù tutto boom la streghina e la ragionetta boom guarda quanto oro sta prendendo no perché vai lì c'è ancora il golem lì boom e prendiamo anche quello lì e anche il nero andiamo a prendere boom 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 che si distrae andiamo a fare tutto andiamo a comandare boom boom oh dai sto facendo oh dio facciamo il cento per cento forse ce lo facciamo farlo forse forse ce lo facciamo ragazzi forse ce la facciamo fare il cento per cento vai non mi deludere golemito golemino non deluderci la famiglia vai vai golemito nooo qua pochissimo oddio abbiamo guadagnato un casinotto ragazzi madonna quanto abbiamo guadagnato allora allora qua intanto posso già fare questo qua e vediamo cosa che si può migliorare questi 3 milioni e direi di fare qui vediamo quante gemmi ci vogliono a 200 murtecci 2 cosa si può migliorare allora con un milione e 800 di oro facciamo qualsiasi cosa che si possa fare allora e la no nooo troppo oro un milione e 800 potrei farmi la tesla ma costa un casino quindi ci facciamo subito la tesla al 3 perfetto ragazzuoli e adesso per finire in bellezza ma finiamo in bellezza e compriamo il draghettino abbiamo comprato il draghettino su clash of clans mi sia piaciuto lecete un like e noi ci ritorniamo ci rivediamo da non so parlare ci rivediamo nel prossimo video un saluto dal vostro francio 50